ciao a tutti benvenuti in un nuovo video io sono Emanuela questo è il canale facile e velociopinone un piccolo haul da OBS in cui ho preso giusto cose che non avevo innanzitutto bastoncini d'arancio che servono sempre un'altra lima a banana non c'è scritta la grana ma qui c'è scritto che serve appunto per grana dura serve appunto per limare e dare una forma all'unghia quindi fa sempre comodo dopodiché ho preso una serie in decorazioni unghie che comunque non avevo mai visto e ho cominciato ad attenzionare innanzitutto nel kit che si presentava con cinque pack nail art abbiamo giustamente cinque cose prima di tutto questi svaroschini adesivi che appunto vengono prelevati e messi io li trovo deliziosi e quindi li ho voluti prendere poi abbiamo il foil che non mi era mai capitato di trovare da OBS ma evidentemente c'è questa specie di effetto argentato foglio argentato tipo alluminio e poi questi tre e spero che mi diciate a cosa servono perché io non so assolutamente da dove partire e come utilizzarli dopodiché mi sono concessa due rossetti perché stavano a 4 euro i preti by floor mal e matt liquid lipstick un colore più rosato un colore più pescato mi piacevano li ho presi uno sto indossando mantengono le labbra idratate ma per quanto riguarda no transfer e insomma non sono no transfer ma dovrebbero essere un po più lunga e durata però insomma i colori mi piacciono quindi li utilizzerò il colore che ho scelto ve lo leggo è red papaya che è questo pescato mattone molto bello e il pinky che ho indosso devo dire che ha un effetto molto naturale mi piace devo dire mi piace mi piace come colore perché non è un rosa stucchevole direi promosso detto questo con questo mio breve video lo bs perché eravamo andati a comprare il regalo per mio nipote un bacio da me manuela facci le veloci opinioni e alla prossima ciao